Scatman's World Vai di capelli, vai Questa canzone mi gara, spero non ci siano problemi di copyright Sono cazzi No, aspetta Vai ci speriamo questi capelli qua Vai, biondi Cioè non sono i miei capelli però No questi Eh non ci sono, ma cazzi che I capelli Royce Style non ci sono, noi ci mettiamo questi dai Si fanno un po' cagare Dove sono Va Fanculo Dai Porca troia Na 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 la donna Eh Ehm Teniamo questa Vabbè La barba non c'è il cappello neanche i vestiti da kumenda cazzo c'è tanta roba a sbloccare però qua porca la puttina la 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 vabbè cominciamo con un maglioncino semplice perchè il kume è il kume posso cambiare il colore però facciamo verde perchè il rosso così fa abbastanza cagare è un rosso di merda vai che style il kume signore ma non ci sono i deviet no ma che spoccio i deviet non so neanche scaricare senza occhiali per il momento ok fan cool ah ok ragazzi in gioco in inglese quindi prevedo figure di merda o scene perchè l'inglese non è la mia materia superstar questo per i soldi questo per le amicizie penso questo studia come un porco questo vuole le popolarità e questo vuole trombare no no provociamo superstar intanto dai ecco se è stato bello fare fashion fare la fashion zoccolotta blogger per il peccato vabbè gaming name allora come no che cazzo ne mettiamo marco 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 name of the channel come anda veneziano oh yes è scritto giusto non sbaglio anche il nome youtuber live oddio qua tutto in inglese oddio ragazzo va bene allora back to school most world channel bene questa è quella zoccolonna di mia mamma perfetto ah qua questo è il gioco ok no aspetta oh ok allora empire planet 2 che dice praticamente empire total war pazzesco ho cominciato proprio con questo gioco qua quindi va benissimo speedrun collaborazioni wall true ma quello faccio io gameplay sono ok ok start video allora ma come cazzo parla questo stronzo no non ho un cazzo non l'abbiamo qua upgrade ok ho fatto qualcosa di buono ok ragazzi allora empire total war che lo possiamo mettere se lo possiamo mettere empire total war multiplayer no online anzi online sono le cose fatte bene online 1 torri black versus man dingo ok mi sembra buono questo dai cazzo fai i contori le visual sono assicurate dai speriamo di oddio se cazzo ce ne ha a fare qua epic game oddio e quindi epic expression murder funny comment ma che cazzo spariamoci questo ok next ok non c'è un cazzo da fare così il processo ah basta no ragazzi che figata ok siamo a livello pubblico si ok va bene bisogna studiare perché studiare è importante back to school ah ok così si fa scusate sono un incoglionito cronico che lo perdono ok beh dai cazzo abbiamo già 21 iscritti 23 bene buono shop perfetto shopping go shopping oddio ok allora quanto abbiamo 100 dollari un cazzo pc world vogliamo un pc serio cazzo perché devo partire con 100 dollari se sono ricco di famiglia cazzo vuoi stronza vabbè allora intanto partiamo con allora microfono abbiamo questo che però è una merda comunque webcam vabbè tutto fa da cagare insomma headphone editing vabbè allora cuffie microfono e webcast va bene mouse mouse sono fondamentali monitor il computer serve ma facciamo così intanto vai perfetto ok la famiglia va benissimo sembra non per il cazzo ok questo è arrivato il pacco bene solo la cuffia ah ok secondo pacco sembra casa mia microfono il terzo pacco buono primi acquisti completati qua cos'è uscito un gioco notification ecco un po' di puttanone ok questi sono fondamentali ragazzi vabbè posso comprare un gioco un po' più serio perché ecco allora faccio diventare un gondolaro ragazzi amazing cosa abbiamo 16 16 dollari ok allora questo cazzo è urban yoga nation vabbè top beh questo c'è però non so che è anche più che best prendiamo questo shop perfetto buono ok buono allora andiamo a fare un gameplay andate cercando di capire bene il game quindi chiedo perdono se sparo cagate gameplay ok start video ok allora perché ancora love resolution scusa ok ancora così non capisco il perché ragazzi spiegate facendo cagate mi scuso casamento qua ma poi sto facendo il gioco speriamo scusate un attimo ragazzi perché devo un attimo capire io lo voglio però di questo urban yoga nation apri puoi venderli anche i giochi ok perfetto gameplay ecco di questo però non mi cambio vabbè speriamo fare le cose giuste ragazzi continua scusa allora gondola simulator uno questo è gondola simulator ragazzi perché puttana sposta stiera mi da problemi ecco faremo con upgrade anche in realtà l'inizio della leggenda cum indiana cum indiana vai ok allora tu 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 vai perfetto ma sto sparando cagate a nastro ragazzi basta è finito video di merda ok questo è il modo migliore process new record cioè video qualità zero bene raga spero sono peggio qualche dal vivo che nel vero madonna questo cum è rincoglionito anche nel gioco che bello vabbè come mangiare siamo a posto sono a fare i big money però ragazzi new card va bene ah questa la posso usare penso nel nel video questa qua ok off topic va bene ok a posto da che arrivano i soldini addirittura perdi iscritti bene perdiamo iscritti mi sembra una cosa molto vantaggio molto buona commenti ho già un haters eeeh 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 allora robert io capisco che è una qualità di merda eeeh però sono all'inizio sono ancora un povero disgraziato cioè le chiedo perdono insomma ok carla è felice e carla secondo me ha già voluto di pacco molto bene ok gli iscritti sono aumentati vabbè ragazzi finiamo questo primo video che non ci sto capendo un cazzo ma va bene raga un saluto del comendone veneziano eeeh abbiamo la possibilità di di fare anche a livello virtuale la carriera comendiana la carriera di un gondolaro che praticamente ha cominciato a fatta l'età proprio con Empire Total War e che adesso invece è pronto con la registrazione di gondola simulator che ragazzi sta facendo molto bene eeeh fa più visualizzazioni i gondola simulator dei miei video perfetto cosa proprio meravigliosa una soddisfazione incredibile raga un saluto del comendone veneziano ciao ciao